Teatro di fatti di cronaca, dagli annosi problemi di ordine pubblico in Piazza Garibaldi, ai recenti furti con spaccata nei locali, largo barriera e anche sede di progetti di sistemazione e rigenerazione urbana come quello per il mercato coperto o le zone pedonali come via Foschiatti. Parte proprio da questo rione la serie di incontri con i cittadini e le realtà locali di idea giuliana lungo tutta la città. I soci e coordinatori del neocostituito sodalizio civico si confrontano con i cittadini per ascoltare i suggerimenti e iniziare un dialogo con l'obiettivo di confrontarsi con le problematiche dei vari territori. Iniziamo dalla quinta circoscrizione che è la circoscrizione più numerosa dal punto di vista di popolazione dove ci sono ovviamente tante tipologie sia in ambito sociale, culturale e anche in ambito urbanistico. Ci sono tanti interventi che dobbiamo fare come amministrazione comunale e quindi crediamo che questo sia un buon inizio per noi. Hanno aderito all'associazione già sei consiglieri circoscrizionali Giorgio Cecco della Quinta, Edmondo Zanadel della Prima, Riccardo Lipariti della Terza, Vanessa Cason della Quarta, Sabrina Polacco e Roberto Ferrarese della Sesta. Il prossimo passaggio sarà di idea giuliana. Nell'insista circoscrizione andremo a vedere quelle che sono le problematiche, a iniziare dalla realizzazione o la ristrutturazione del cubone che è iniziata da qualche giorno e poi un'attenzione particolare anche al piccolo commercio che sta attraversando una fase di criticità.